Giovedì 15 luglio, alle ore 17.00, Giorgia Meloni sarà al Palabecci Porto Turistico, di Pescara per presentare il libro, Io sono Giorgia. Insieme a lei sul palco, il giornalista e scrittore, Nicola Rao che intervisterà il presidente di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un racconto appassionato e appassionante, scandito nei titoli da quel tormentone nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario. Passato, presente e futuro del leader politico sul quale sono puntati gli occhi di molti, in Italia e non solo.